Se stai cercando la tua opportunità, se vuoi costruire la tua strada, sappi che nessuno ti regala nulla. Il mondo è di chi coglie le occasioni, di chi le cerca e le crea con determinazione e perseveranza. Perciò smettila di rinunciare ai tuoi sogni. La tua chance, proprio quella che pensavi non arrivasse mai, adesso è a un passo da te. Scegli il Master Excellent della Exe Business School per formarti ed inserirti subito nel mondo del lavoro. 3 mesi di formazione in aula, 12 giornate full immersion con docenti altamente qualificati. Un tirocinio formativo retribuito di 6 mesi, grazie al quale recuperi totalmente il tuo investimento. Un Master praticamente a costo zero. Ecco la tua opportunità, entra nella Exe Business School. Diventa protagonista della tua vita. Il regista sei tu. Grazie a tutti.